C'è questa questione, le persone stanno pagando due biglietti per soffrire delle due linee congiunte per arrivare a Garibaldi. Sì, su questo deve intervenire Enem, guardate, questo è un momento molto delicato. Noi siamo impegnati a H24, però ripeto, la situazione è molto seria, perché per fortuna una situazione grave non si è trasformata in tragedia, perché abbiamo consumato feriti alla fine non gravi, però per il trasporto pubblico è stata una giornata e sono giornate drammatiche, cioè noi abbiamo un tratto di linea ancora sequestrato, abbiamo due treni sequestrati e un treno danneggiato, quindi Enem sta facendo il massimo. Noi stiamo esercitando non solo una pressione fortissima nei confronti Enem, ma anche un lavoro di sostegno con il governo. Io ho sentito la ministra De Micheli, che è stata anzi molto cara e affettuosa nel chiamarmi subito, ci siamo sentiti già due volte, si cercheranno di accelerare una serie di tempi. Ad ora, a breve, noi sapremo quando possiamo andare a Garibaldi, quando aprire Piscini, cioè si sta facendo il massimo, ma in attesa che raggiungiamo di nuovo quel livello di ordinarietà, pur nella precarietà, è necessario che Enem, per quanto riguarda i trasporti sostitutivi su gomma, la Polizia Municipale, per quanto riguarda la viabilità, ma anche l'azienda, per quanto riguarda andare incontro ai viaggiatori che già subiscono un trasporto che non è idoneo per quello che noi vorremmo, bisogna adesso avere tutti capacità di buonsenso, di elasticità, di visione, dobbiamo lavorare però tutti perché si possa aprire al più presto Garibaldi e Piscino, però ci vogliono i treni. E questa non è una cosa che si può risolvere con le battute propagandistiche o addirittura con l'ignoranza proprio della mancata conoscenza di come funziona la linea 1 e poi esercitiamo anche quella pressione forte perché CAF, la multinazionale che si è giudicata la fornitura dei nuovi treni, mantenga l'impegno di fine febbraio. Questo è importantissimo perché con sei mesi di prova, almeno dopo l'estate, noi abbiamo i treni nuovi. Però adesso impegno perché il cittadino vuole sapere domani, dopo domani che succede all'area nord, che succede a Garibaldi. Noi stiamo facendo il massimo, però lascerei un attimo da parte le polemiche, se non questi dei biglietti che possono essere comunque condivisibili, cioè le polemiche del trasporto, questo è il tema. Poi se si vuole scaricare su qualcuno ben venga, ma adesso nel momento è molto molto delicato, quindi dobbiamo capire perché è accaduto, che cosa è accaduto, se è un errore umano, non è un errore umano. Bisogna insomma soprattutto avere al più breve tempo possibile i treni aggiustati e i treni manutenuti.